Riguardo l'aggregazione delle funzioni fondamentali avete presentato in provincia una mozione. Sì, noi siamo dal punto di vista politico abbastanza critici sulla manovra che è stata fatta ad agosto e che riguarda i piccoli comuni. Di fatto inizialmente si prevedeva che i comuni sotto i 1000 abitanti dovessero sparire, poi non è più così, però resterà la figura del sindaco che diventa un burocrate, mentre per quanto riguarda la rappresentanza e la democrazia tutti i riferimenti, giunte, consiglieri spariscono. Quando pensiamo che nei piccoli comuni come, non so, pensiamo alle nostre realtà locali, Onore, Songavazzo, la giunta è costituita da volontari che danno il loro contributo fattivo, operativo ai comuni, non sono certo lì a scaldare una poltrona, queste figure spariscono e io mi chiedo come il sindaco poi potrà gestire tutta l'amministrazione del comune. Quindi di fronte a queste nuove regole che vengono introdotte, che poi riguardano per esempio anche l'introduzione del patto di stabilità per i comuni sotto i 5000 abitanti, doveva essere tolto, era stato annunciato che anche per i comuni più grandi il patto di stabilità che blocca di fatto la spesa dei comuni doveva essere eliminato, invece è stato portato anche ai piccoli comuni. Si parla di utilizzo dell'unione, si parla di convenzionamento, però le idee sono assolutamente poco chiare. La regione Lombardia dovrà determinare i criteri relativi alle aggregazioni dei comuni per la gestione dei servizi. Per cui noi abbiamo chiesto alla provincia che si muova perché salvaguardi le realtà montane, perché è un conto aggregare per esempio nella gestione delle convenzioni i comuni della bassa, che raggiungono facilmente i limiti di 10.000 abitanti, ma all'altro conto è per esempio per le realtà montane e gregari dei comuni che sono molto piccoli e anche distanti dal punto di vista magari territoriale, per arrivare al numero di 10.000 abitanti e le difficoltà sicuramente saranno notevoli. Noi crediamo che le unioni a suo tempo introdotte fossero la soluzione più idonea, senza forzare e mettere dei limiti particolari alle aggregazioni. Devono essere delle scelte volontarie, devono essere portati i comuni a operare una gestione comune sulla base delle proprie necessità con un minimo di flessibilità. Non si possono dare delle imposizioni numeriche. Il fatto che si impongano dei numeri creerà delle difficoltà totali e assoluti. Già i comuni vengono tagliati di risorse, adesso vengono anche imposte delle regole rigide sulla gestione dei servizi, vengono tolte le rappresentanze di democrazia, che servono comunque anche in un piccolo comune. Le realtà comunali sotto i 5.000 abitanti nella regione Lombardia sono addirittura 1.000 su 1.500. Spero che la regione Lombardia e la provincia si faccia carico di un'opera di intermediazione. Valiti molto attentamente questo problema per evitare delle difficoltà che sicuramente i comuni incontreranno.